Dal 17 al 27 maggio Napoli partecipa alla manifestazione Buongiorno Ceramica con un programma di eventi dedicati alla Porcellana di Capodimonte. Presentata questa mattina in Sala Giunta, l'iniziativa prevede incontri, laboratori, mostre e visite guidate alla scoperta delle preziose collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte, delle ceramiche del Museo Nazionale Duca di Martina in Villa Floridiana e delle produzioni degli allievi dell'Istituto ad indirizzo raro Giovanni Caselli e della Real Fabbrica di Capodimonte. La nostra eccellenza è la Porcellana, cioè quel prodotto meraviglioso curato dalle mani di artisti straordinari che arriva nella città di Napoli attorno ai primi decenni del 1700, con una collaborazione che vede al centro l'Istituto Raro Caselli, uno dei due istituti rari del nostro paese insieme ad un altro istituto per gli utai, in questo caso Cremona, la Floridiana, il Museo di Capodimonte, altre istituzioni culturali della nostra città, abbiamo messo in campo una produzione di eventi che è assolutamente straordinaria per ripercorrere pezzi della storia cittadina, pezzi della produzione, per parlare della porcellana, per parlare delle tradizioni e nello stesso tempo del futuro della porcellana. Insomma giornate che offriamo alla città perché essa possa godersi un tesoro unico nell'intero paese italiano.